Garantire la sicurezza ai pedoni con particolare attenzione alle famiglie che ogni giorno accompagnano i propri figli alla scuola materna di Contrada Marcianese. Questo è l'obiettivo dichiarato dall'amministrazione comunale di Lanciano con i lavori di realizzazione di un collegamento stradale tra la strada di accesso alla scuola e la strada provinciale ex statale 84. Questo breve e nuovo tratto stradale, dichiara il Tg Max l'assessore ai lavori pubblici Antonio Di Naccio, consente di ottenere in maniera concreta una duplice finalità, l'accesso in sicurezza per autovetture e pedoni all'area della scuola materna e la sosta con la realizzazione di 15 posti auto. I costi dell'intervento al netto del ribasso ammontano a circa 16.000 euro. Soprattutto per migliorare la sicurezza dell'accesso alle autovetture ai ragazzi che frequentano la scuola materna di Marcianese, ma anche ai pedoni, quindi garantire una funzionale accessibilità, quindi un migliore ingresso e uscita. Perché sappiamo che durante il periodo scolastico i residenti di questa zona subiscono una serie di disagi e quindi finalmente dopo tanti anni siamo riusciti a creare e a risolvere questo problema veramente importante, anche se di piccolo importo ma di grande valore funzionale e strategico.